Dura presa a disposizione delle RSA Wilm, Fim e Fismic in Sevel, che ha assunto 80 dipendenti a tempo indeterminato, ma con le agenzie di somministrazione e soltanto nuova precarietà, commentano i rappresentanti sindacali della fabbrica del Ducato e di Atessa. La Sevel, riferiscono le RSA, ha spiegato che le assunzioni fatte con queste modalità sono in linea con le disposizioni di legge del Decreto Dignità. Ma questo inatteso e radicale cambiamento nelle assunzioni a tempo indeterminato preoccupa i sindacati, oltre a rappresentare il primo caso in Italia per il gruppo FCA. Il commento di Nicola Manzi, segretario Wilm, chiedi Pescara. Appena fine gennaio hanno assunto 140 lavoratori a tempo indeterminato direttamente in Sevel. Di colpo c'è stato questo cambio incomprensibile perché il primo caso in Italia che FCA mette in atto nella trasformazione a tempo indeterminato con l'assunzione presso le agenzie di somministrazione, questi 80 lavoratori dovranno lavorare in Sevel a fianco dei 140 ultimi assunti. Per cui si crea una disparità generale. Abbiamo tre fasce di lavoratori. Gli anziani, i lavoratori ne ho assunti dopo l'entrata in vigore del Job Act, parliamo di marzo 2015, e questi ultimi che sono il terzo fenomeno che entreranno a far parte della casa Sevel. Un'aberrazione di merito perché riteniamo che uno stabilimento come la Sevel, che consolida i volumi occupazionali, lo stabilimento dei record, lo stabilimento che ci sta annunciando di aumentare la turnistica. Con l'annuncio che si produrranno anche veicoli commerciali della Opel, ci sembra strano che da punto in bianco si rompa questo schema tradizionale che vuole che in Sevel a fronte di consolidamento produttivo ci sia un'occupazione stabile, quella buona, dipendenti Sevel al 100%.